tappo molto pratico ottima la profumazione si avvertono delle note speziate bello, molto bello non è eccessivamente schiumoso di facile risciacquo e questo è il balsamo i prodotti che sto utilizzando sono della Herbal Essence e profumazione olio di argam questo nello specifico serve per riparare i capelli danneggiati o comunque quei capelli che hanno bisogno di una ristrutturazione pratica confezione anche questa basta una nocce di balsamo per capelli così lunghi subito pettinabili è molto importante faccio agire un minuto risciacquo e poi vediamo i risultati e questo è il risultato potrei aggiungere che quasi quasi non ci sarebbe bisogno neanche di piastrare perfettamente lisci lucenti ma belli veramente senza parlare della profumazione un risultato già come prima applicazione veramente stupendo caspita la resa è ottimale ed effettivamente è districante un riparatore sono veramente contenta lo consiglio vivamente questo è tutto ciao a presto